Nasce a Roma il 16 luglio del 1974, momenti appunti ovviamente, è un attore e doppiatore, si avvicina al teatro grazie alla sua passione per la musica. Nel 2004 arriva in tv con un medico in famiglia, recita il romanzo criminale, il film diretto da Michele Placido. Nel 2014 interpreta Alberto Petrelli, Smetto quando voglio, di Sidney Sibilia e per questo ruolo ottiene una candidatura ai Davi di Donatello come miglior attore non protagonista. Doppia pumba nel live action del Re Leone, recita in Fighi, l'ultimo film scritto da Mattia Torre e nella miniserie Il nome della Rosa. Prossimamente sarà su Rai 1 con la miniserie Vivere, non è un gioco da ragazzi. Io direi di non perdere altro tempo e di intorurre il nostro ospite che è ovviamente Stefano Fresi, ma prima di questo ovviamente ragazzi sigla. Ciao Stefano! Ciao! Ciao, ciao, ciao. Eh, si tira avanti, si tira avanti, ciao, ciao, ciao. Benvenuto, grazie di essere qui con noi. Tra l'altro sei uno dei pochi ospiti che ha la connessione fluidissima, perfetta, l'audio perfetto, è un miracolo. Guarda, questa cosa da 20 giorni a questa parte, non di più. Fino a poco tempo fa era un disastro. Davvero? Improvvisamente è arrivata la fibra e adesso va veloce, sì. Ma te non stai a Roma? Io sono poco a nord di Roma, prima di Sacrofano, quindi... Allora, come ho detto prima nell'introduzione, molto lunga perché hai fatto un sacco di cose, ho detto che ti sei avvicinato alla recitazione grazie alla musica. La domanda sorge un po' spontanea. Hai mai pensato di tornare anche magari come una sorta di carriera parallela alla musica in qualche modo? Ma sai, non l'ho mai abbandonata del tutto, nel senso che poi, a parte il primo amore non si scorda mai, ma se sei musicista rimani musicista e... Continui a studiare, continui a suonare, continui a fare delle cose. Mi è capitato di cantare in televisione, in varie trasmissioni e ogni tanto partecipo alle cose che fa mia moglie, che è la musicista seria della famiglia, Cristiana Polegri. E ogni tanto lei fa concerti e io partecipo come lettore e attore, addirittura ogni tanto canto con lei. Quindi insomma, capita sempre. Poi è chiaro pure che nel momento in cui sono diventato più conosciuto come attore, anche i committenti musicali di prima, secondo me si diranno anche, mo' figura del Fresi Cedarretta, c'è da fare col cinema. E quindi alla fine giustamente non mi chiamano più, ma non avrei veramente il tempo di farlo. Io ho lavorato per anni in jingle pubblicitari, sigle, televisione, ho fatto tantissimo. Ah pure? Davvero? Io sono un grande appassionato di jingle, mi fanno impazzire. Ne ho fatti tanti, ne ho fatti tanti. Ma anche famosi, che magari ci ricordiamo? Beh, il jingle della Rai, che è tutto renonda, quello è mio. Ah davvero? Sì, ho declinato il tema, il temino di Sky, l'ho declinato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho fatto il lancio di Sky HD, ho fatto la musica del menu di Sky, 24 ore di musica fissa al giorno. Bellissimo, bellissimo. Sì, ho fatto un sacco di roba. Io non so se lo conosci come tema, ma il mio tema preferito di sempre, quello che appunto fa da sottofondo, ha un menu, ha un... di selezione o qualcosa del genere, il tema del Wii, della console Nintendo, che è un tema bellissimo. Mamma mia, è una cosa eccezionale quella roba. Un appassionato di questa roba non so perché, boh. E poi vedo tra l'altro una nutrita collezione di vinili, credo, voglio azzatami oppure no. Sì, sono quelli, lì sono vinili, sono solo la punta dell'iceberg, ci sono altrettanti dietro. Prima di darti alla recitazione, tra l'altro, hai frequentato lettere e poi però l'hai abbandonata. Perché inizio da lavorare presto. Tanti attori, tra l'altro, fanno una facoltà, credono in quella facoltà e poi si ritrovano nel vortice del cinema, della recitazione improvvisamente. Beh, sì, perché sai, comunque sia, io ho cominciato a studiare lettere con indirizzo disciplinario dello spettacolo, quindi storia del teatro, storia del cinema, che era la materia che mi piacevano, che avevo a cuore. Poi il lavoro ha cominciato a prendere la gran parte delle ore della giornata e quindi non c'era proprio il tempo materiale di studiare né di seguire le lezioni. E quindi mi sono fermato lì e ho fatto 7-8 anni, non di più. Come sei entrato nel mondo della recitazione? Qual è stata la tua prima esperienza? E soprattutto, com'è stato viverla questa prima esperienza? L'impacciato, spaventato? È tutto, sì, tantissimo spaventato. È tutta colpa di Augusto Fornari. Augusto Fornari è un attore straordinario, un attore teatrale straordinario ed è colpa del fatto che io, intorno ai 16 anni, ho lasciato la Centocelle dove sono nato per andare a vivere a Marcellina, che è un paesino che sta tra Guidoni e Tivoli, sulla di Burtino. E Augusto Fornari e suo fratello Tony Fornari sono di Marcellina. E io lì ho conosciuto Augusto e Tony, Tony anche un musicista, abbiamo messo su un trio io, mia sorella e Tony, un trio vocale, che faceva canzoni del Quartetto Cetra, canzoni anni 40, canzoni anni vecchie, insomma, della radio, le vecchie canzoni della radio così. E Augusto Fornari, eravamo ragazzini, gli vende l'idea di metterci in uno spettacolo teatrale dell'attrice Renata Zamengo, che è un'attrice veneziana straordinaria, e ho debuttato a teatro che avevo appunto 18 anni. Avevo fatto forse uno spettacolino prima un po' amatoriale a Gavignano, avevo 17 anni, 18 anni, però insomma quelli sono i tempi, così è stato. Mi sono innamorato del teatro, Augusto Fornari mi chiese di scrivere le musiche di scena per una sua regia delle donne al Parlamento di Aristofane, e io seguendo le prove, guardando gli attori che provavano, stando lì in teatro vedendo i tecnici che lavoravano, le sarte che cucivano, il sipario, il palco, mi sono innamorato di quel mondo perdutamente, e ho detto io voglio, non mi basta solo la musica, voglio fare la musica qui. E poi piano piano, da pianista di scena a compositore di scena, a attore che dice una, poi sette, poi venti battute, il passo è stato breve. Beh è bello perché comunque la musica c'è sempre stata, ti ha accompagnato e ti ha introdotto anche in questo mondo in qualche maniera, e poi è bello che sia una storia locale, che poi si trasferisce sul piano nazionale, molto romantica anche come cosa. Molto, ed è stato romanticissimo quando qualche anno fa abbiamo fatto un film al cinema con la regia di Augusto Fornari, e c'erano sia io che Augusto che Tony che Emanuela, si è chiuso un po' il cerchio, insomma, quindi è stato molto bello. E poi hai recitato appunto nel film di romanzo criminale, diretto da Placido, ecco mi puoi raccontare un po' di appunto di quell'esperienza, di com'è stato insomma lavorare una roba del genere? Certo, allora intanto ti dico il caso furtuito che mi ha portato ad essere in quel cast, nel senso che io ero a teatro, precisamente al Teatro Globe, che oggi si chiama Gigi Proietti e Silvano Toti, e praticamente stavo facendo i tre moschettieri, con la regia di Attilio Corsini del Teatro Vittoria, e c'era un giovane e non ancora conosciutissimo, Riccardo Scamarcio, che faceva D'Artagnan, e Michele Placido venne a vedere Scamarcio, perché egli serviva per la parte del nero, e prese lui per fare il nero e me per fare il secco. E siccome io cantavo nello spettacolo, avevo scritto le musiche di scena e cantavo, lui mi ha detto, a me sta cosa che canti mi piace, ci inventiamo che il secco canta, e come copertura canta nei locali, che nel libro non c'è questa cosa che il contabile canta, se l'è inventata Michele. E quindi mi ha chiamato a fare questo film Colossal di serie A, con dei mostri sacri, perché insomma c'erano degli attoroni gigantesi, Kim Rossi Stewart, Favino, Santa Maria, Accorsi, c'è già un cast di attori già conclamati, quindi per me un po' immaginare l'emozione straordinaria di stare vicino agli attori che normalmente erano il motivo per cui andavo a vedere un film al cinema, me li trovo come colleghi, è stato un salto veramente pazzesco. E Michele, a cui devo tantissimo e che non finirò mai di ringraziare, mi ha dato una grande fiducia, mi ha dato anche una grande mano, mi ha spronato, è stato molto bello, è stato un bel debutto. Beh immagino, immagino che un cast così d'eccezione sì, soprattutto in un certo senso ti senti anche un po', ti allenano, ti viene voglia di performare ancora meglio. Certo, senso di responsabilità. Però c'è anche una sorta di collegamento tra il film e la serie, perché se non erro ti hai composto le musiche della serie poi diretta. Solo la sigla di testa. Ah, solo la sigla, ok. Solo la sigla di testa. Che però è diventata iconica, no? Il grande catalano, Pasquale Catalano, ha scritto delle musiche meravigliose per te. Io ho fatto soltanto la sigla di testa, che è quella. Bellissima, bellissima. Ed è successo tutto, ho vinto la gara, perché sai, spesso ci sono gare d'appalto per le sigle, e ho vinto la gara per un motivo particolare. Non so se ti ricordi le immagini di quella sigla. Certo. C'è questo denaro che scorre, no? Allora io mi sono immaginato il rumore, il denaro che scorre con la macchina contasoldi della banca, e sono andato in banca con un microfono, mio padre lavorava in banca, a registrare il rumore della macchina contasoldi, ma veniva fuori una specie di pernacchia brutta, mixata alla musica. Allora ho preso un microfono, e col microfono ho fatto... Con questo segno di godimento dopo, alla fine, come a dire, ammazza quanti soldi. Questa cosa è piaciuta tantissimo. Chi aveva ideato la grafica della sigla, hanno preso la mia musica. I Pink Floyd quando hanno fatto Money, cioè la stessa roba praticamente, perché sono andati a registrare. Tutto serve l'esperienza, sì, sì. Bellissimo. Non la sapevo questa curiosità, molto carina davvero. E invece ti volevo chiedere sempre sul... Voglio parlare di Smetto Quando Voglio, perché volevo arrivare lì, perché già dall'introduzione, secondo me se ne parla ancora troppo poco di Smetto Quando Voglio, perché secondo me quel film, anzi quella serie di film, doveva essere d'esempio per creare una sorta di filone, o comunque un certo tipo di commedia, che in Italia si fa raramente. Cioè è una commedia che però riesce a essere anche un po' di genere, no? Cioè tocca un po' tanti generi, c'è un po' il thriller, c'è il film da rapina, come si chiamavano un tempo, ed è stato un esempio veramente eccezzo, anche nel cast, anche nella tua interpretazione. E nel 2014 appunto esce il primo, ed è arrivato un fulmino a ciel sereno, anche nella fotografia così acida, tutta gialla, fuori di testa. E nessuno si aspettava questo successo, che poi effettivamente c'è stato. Che cosa hai pensato quando hai letto il copione per la prima volta? Ah, quando l'ho letto per la prima volta ho avuto subito l'impressione che il film fosse un capolavoro, perché era scritta veramente bene. Nel senso che mi è capitato di leggere tante sceneggiature, sulle quali poi rimetti le mani, perché poi quando ti metti in bocca le battute con gli altri attori, fai le prove, nascono cose, eccetera. Su Smetto Quando Voglio abbiamo dovuto fare veramente poco, cioè abbiamo trovato la nostra via di personaggio, e abbiamo aggiunto proprio qua e là le battute che venivano estemporanei a tutti gli attori, ma per il resto la sceneggiatura era blindatissima, perché era scritta veramente bene. Per cui quando l'ho letto ho fatto il provino, e questo lo devo dire, Sidney Sibilia è un... veramente un unicum rappresenta, perché regista presente al provino e che lavora al provino. Cioè io non ho fatto un provino come spesso accade, che vai, c'è un ragazzetto che sa più o meno le battute, ti fa da spalla, recita anche abbastanza male, non aiutandoti, e vai a finire su un nastro che forse il regista vedrà. Io sono stato lì un'ora e mezza a lavorare con Sidney su questo personaggio e mi chiedeva cose e quando sono uscito da lì ho detto guarda come va il film. Comunque ho avuto l'impressione di aver lavorato, io ho lavorato oggi, ho avuto l'impressione di lavorare e così è stato. Poi il provino mi hanno detto che era andato particolarmente bene e poi panico, perché poi sono spariti per sette mesi. Per cui ho detto vabbè hanno preso l'acqua. Invece stavano aspettando Edoardo Leo, che era il protagonista del film, che doveva finire la mossa del pinguino, poi quindi sette mesi dopo mi hanno chiamato per il callback e poi è partita questa avventura che mi ha un po' cambiato la vita. L'ha cambiata un po' tutto il cast e secondo me ha dato anche una piccola spintarella al cinema italiano che secondo me ripeto ha preso poco esempio, però si spera che prima o poi vengano fuori film simili. E ecco, ti hai citato Edoardo Leo che ti ha messo in guardia durante la produzione di quel film, cioè quando è poi uscito, che ti ha detto occhio perché poi ora ti chiameranno tutti e stai attento a non accettare brutti film. Ecco, te come ti sei comportato? Hai accettato il consiglio? Oppure no? Edoardo al di là della sua bravura attoriale e alla sua bravura da regista, Edoardo è una persona che ha capito questo mondo ed è generoso, non è uno che mette le bagnette. In che senso dici? Che l'ha capito? Che ha capito come funziona, che conosce proprio lo show business, il cinema, la produzione, cosa può funzionare, cosa no, le mosse giuste da fare, le scelte giuste da fare, è molto culato Edoardo. Quindi io mi fido molto di lui. E lui mi disse appunto questa cosa che hai citato alla perfezione, esattamente quello che mi ha detto e io gli ho dato retta, nel senso che è esattamente quello che è successo. Io quando me l'ha detto ero abbastanza incredulo che mi avrebbero cercato tutti. Che lui da fuori mi ha detto guarda hai fatto un grande film, ti chiameranno tutti, attento a quello che scegli. E io gli ho dato retta, me lo sono stampato, tatuato proprio nel cervello e le prime offerte che mi sono arrivate da narose abbastanza da estinguere il mutuo di casa, però non soddisfacenti perché poi se ti chiamano a fare la commediaccia, quella che non ti stupirebbe come ti ha stupito, smetto quando voglio per capirci. Certo. Non lo fa il film, cioè, certo, è stato difficile dopo anni e anni di gavetta perché insomma io film del 2014, nel 2014 c'avevo 40 anni, cioè il successo è arrivato a 40 anni, quindi ho cominciato a 17, non fatti una trentina di gavetta, capisci? Quindi dopo 30 anni di gavetta finalmente arrivano arrivano i dollari e tu gli dici di no e io gli ho detto di no a due film abbastanza pagati bene per poi fare, però, vedi, certe volte succedono le cose perché io ho detto di no a un film perché l'avevo letto e non mi piaceva, però siccome non mi andava a dire guarda l'ho letto è brutto, no io fa, ho mentito spuderatamente ho detto purtroppo ho un impegno precedente, non era vero e come accade veramente nei film attacco il telefono e 5 minuti dopo mi richiama Edoardo Leo e mi dice lo fai Noi e la Giulia e io ho fatto Noi e la Giulia che invece era un altro film di grandissimo successo che è andato benissimo anche lui e quindi ho infilato questi due film di seguito e poi ho sempre cercato di fare scelte di cose che mi piacesse fare e che non fossero dettate dal mercato, ho fatto un film che si chiama Cuori Puri di Bob De Paulis che era un'operazione economicamente molto piccola ma con grandissimo respiro e una sceneggiatura molto particolare, una storia bellissima, lui è un direttore illuminato, ho fatto questo film e siamo andati a Cannes con quel film quindi per me è stato, cioè alla fine la paga è stata quella c'è la soddisfazione anche la stima delle persone che vengono a vedere un film tuo perché sanno che fai certe cose. Beh, quindi hai risposto tecnicamente alla domanda che ti volevo fare dopo perché ti volevo fare proprio una domanda sul fatto del tuo continuo partecipare a produzioni di genere, anche piccoline, per esempio prossimamente sarai in The Land of Dreams di Nicola Batangelo e quindi a quanto pare questi film sono molto importanti per te, cioè vuoi comunque partecipare, dare una mano trasversalmente alle piccole produzioni, ai registi che magari... Questo sì, questo sì perché quando posso lo faccio sempre volentieri perché comunque... Cioè lo faccio anche perché lo voglio fare, non è questo che faccio il samaritano, certo, certo, chiaro. Faccio un film perché mi piace, per esempio Il Regno di Fanuele quando l'ho letto non è che mi sono chiesto quanto forte potesse essere la produzione, poi la produzione è diventata Fandango quindi era anche forte, ma all'inizio quando era soltanto un corto di diploma di uno studente del centro sperimentale mi sono fatto sedurre da nient'altro che copione, l'ho letto, era bello, la sceneggiatura era bella, facciamolo. Il criterio di scelta dei lavori è prima di tutto il testo, poi chi c'è e chi lo fa è altrettanto importante, però insomma l'ultimo dei motivi è sempre l'economia, però ecco tornando a Lens of Dreams l'idea di fare un musical che non l'ho mai fatto era molto interessante. Poi finalmente almeno si corona un po' Finalmente, poi mi sono salvato guarda mi sono salvato dalla coreografia iniziale in una maniera veramente perché avevo capito che c'era questo mega balletto iniziale dove ballavano tutti ho visto ballare Paolo Calabresi ma che ne sa bellissimo cose persesche dove vedrai al cinema ho visto ballare tutti preoccupatissimi da questo coreografo che faceva le cose io a certe tutto ho visto che io stavo sul palco dove c'era un pianoforte ho detto ma io suono il piano volete che suoni il piano? Sì sì certo quindi mentre tutti ballano io sto nel pianoforte canto la prima canzone da proprio il pezzo di apertura del film e mi sono salvato da questo balletto splendido bello lo vedremo con con piacere tra l'altro al messaggero hai detto che speri che le sale si ripopolino io ogni volta che intervisto un attore un regista eccetera faccio sempre la stessa domanda sono quasi ossessionato però secondo me è importante far passare questo messaggio cioè come si ricostruisce il rapporto ormai secondo me deteriorato all'inverosimile tra il pubblico e i film italiani cioè il cinema italiano che adesso in generale proprio il cinema italiano non gode di una buona nomea insomma la gente ha perso un po' la fiducia non va in sala un po' per la pandemia un po' perché vede il film italiano come una roba di serie binger in genere cioè proprio non importa il regista o l'attore è sbagliato è sbagliato a prescindere perché non è così c'è un cinemaccio italiano esattamente come c'è un cinemaccio americano come c'è un cinemaccio di tutto il mondo poi ci sono straordinari film le cure sono due la prima è andare nei cinema a cercare i film e a guardarli al di là delle recensioni farsi incuriosire da un trailer e andare a vedere un film senza che ci siano i tuoi beniamini necessariamente o che sia un blockbuster ma semplicemente scegliere di andare ad ascoltare una storia la seconda è quella di frequentare i festival che tra l'altro proiettano i film su grandi schermi quindi è una sorta di ritorno alla sala perché nei festival rischi di vedere film straordinari che non saranno mai distribuiti magari quindi vanno visti sono importantissimi i festival però per quanto riguarda la sala io quello che dico sempre anche ai ragazzi vado spesso a parlare nelle scuole che non è soltanto un mercato da salvare non è che bisogna salvare le sale cinematografiche perché ci sono gli esercenti che devono acampare le famiglie e le signore delle pulizie chi fa i pop corn non è solo questo non è semplicemente un settore è anche un atto di puro egoismo di te che vedi il film perché vedi il film nella migliore delle maniere cioè è proprio per te che ti godi il film perché tu spesso ti vedi il film a casa tua su una piattaforma o anche un dvd o quello che sia su uno schermo che per quanto c'è proprio la casa grande è uno schermo piccolo poi ti arzi vai a farti il caffè vai in bagno vedi il schermo e vedi il resto della casa il tuo gatto che passa metti pausa fai la pipì e dai un approccio mediocre al film rischi di dare un giudizio del film dicendo che è mediocre invece è mediocre il modo in cui lo guardi invece in una sala circondato da sconosciuti quello che ti fa sorridere a casa ti fa scompisciare al cinema perché la risata è contagiosa così come l'emozione la commozione stare al buio in quello che nella religione del cinema è il tempio cioè la sala cinematografica è importante e poi tu sei un bel ragazzo il primo piano tuo se lo vedo su un metro e mezzo ma dici a me bel ragazzo mi sono un attimo beh tu ti vedo un primo piano tuo su un metro e mezzo di televisione in cucina è chiaro che c'ha un impatto emozionale su di me se ti vedo su 25 metri e un occhio tuo su due metri e mezzo e ti vedo anche le righette dell'iride dell'occhio è chiaro che l'impatto emozionale è una cosa e ti rimane questa roba ti rimane dentro la voglio sai quando ho notato questa cosa di nuovo ho detto ah bene sono al cinema perché sono andato sempre a vedere film piccolini e non ce l'ha nessuno ho andato a vedere Dragon Ball che io amo Dragon Ball la follia e ero lì per cazzo ci si esaltava tutti come pazzi a ogni colpo a ogni scenografia a ogni colpo di scena è stato bellissimo sembrava adesso allo stadio bellissimo secondo me si è persa un po' quella cosa lì e speriamo che la gente se ne accorga ecco voglio parlare di un'altra serie che io ho amato alla follia anche un po' per mia insomma un po' forse di campanilismo che è i delitti del barlume vabbè chiaramente e hai detto al fatto quotidiano che ti sei sentito un po' in vacanza sul set dei delitti del barlume proprio sì perché arriva quel momento dell'anno che tu sei stanco verso aprile marzo stai a lavorare da settembre hai lavorato tanto e tutti pensano non vedo l'ora di andare in vacanza io sono sei anni che dico non vedo l'ora di andare al barlume perché si gira all'isola d'elba stai in un posto bellissimo con un cast di persone con cui c'è un'amicizia ormai familiare perché ci si vuole veramente bene simpaticissime si ride dalla mattina alla sera si lavora perché si lavora faticosamente è sempre faticoso girare un film ma sempre col sorriso sulle labbra con Ron che è un grandissimo regista accentratore straordinariamente divertente sul set è uno che appena c'ha pausa si fa il bagno gira in confrime perché poi si fa il bagno appena può e quindi il clima è incredibile per tutto questo te pagano io lo trovo incredibile certo che ti pagano può venire mia moglie con mio figlio a trovarmi si fanno una settimana lì vengono gli amici a trovarti sull'isola poi ti vogliono bene tutti perché comunque è chiaro che abbiamo portato un introito all'isola perché la gente viene apposta certo quindi è un clima straordinario io vado in vacanza e dopo e mi viene la tristezza che tu dov'è il Barlume non c'è non ci avevo mai pensato però effettivamente è così è così e tra l'altro nei delitti del Barlume hai lavorato anche con Corrado Guzzanti mia grande perversione e tra l'altro tutti mi hanno detto che lavorare con lui è molto particolare quindi volevo fare una domanda faticosissimo perché fa ride è un problema serio che ho lavorato con tantissimi attori bravi ho avuto la fortuna di lavorare con tantissimi attori bravi lui è proprio un genio però lui c'è qualcosa di diverso dagli altri e ti stupisce sempre se fa 6 Chuck dice le stesse cose le stesse battute ma c'ha sempre sfumature diverse è veramente un improvvisatore unico attentissimo un professionista eccezionale il problema qual è? è che a parte ti porti dietro il mito di tutto quello che ha fatto prima perché lo amiamo tutti per quello che ha fatto poi ti rendi conto di quanto è bravo mentre fa quello che sta facendo il rischio è di fare quello che ogni tanto faccio io cioè mi fermo esco fuori da Beppe del Barlone e mi metto a guardare che fa Corrado perché mi fa ride mi godo il Chuck di Corrado poi mi rendo conto scusate scusate però rifaccio anche quello essere in vacanza in un certo senso hai guzzanti lì te lo godi capisci che poi ci vai a cena e ti racconta le cose bellissime ti immagini cosa c'ha da raccontare mamma mia guzzanti benvenuti c'è Filippo Timice Lucia Masciano la Guidi Michele Di Mauro una delle persone più divertenti che conosca Guglielmo Favilla Daniele Marmi c'è un cast di persone simpaticisti Alessandro Benvenuti che è mio fratello i bimbi è una roba guarda il Barlone è veramente una droga irrinunciabile tornando smetto quando voglio anche per certo 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 anche per lo spettatore lo è quindi siamo tutti felici ecco facciamo un salto invece nel passato perché abbiamo parlato insomma delle cose recenti ovvero un medico in famiglia esatto e che cosa ricordi quel periodo perché sai il medico in famiglia viene sempre vista come una cosa ormai lontana o comunque come quel telefilm da massaie da grandi famiglie insomma però ecco dall'interno è difficile capire come si gira qual è il modus operandi all'interno del set del medico in famiglia rispetto magari ad altre produzioni beh il medico quando sono arrivato io era già quarta quinta sesta stagione non mi ricordo sono stato abbastanza avanti era già una macchina da guerra con degli incastri perfetti c'erano tutte tutte le umanità avevano già trovato i loro equilibri quindi inserirsi non era semplicissimo era è stato molto bello perché comunque beh Lunetta Savino è un'attrice straordinaria proprio bravissima a vederla all'opera è stato bellissimo sono stato accolto con molto affetto sia da lei che da Francesco Salvi e poi Lino Banfi tu devi sapere che Lino Banfi veniva a vedere gli spettacoli che facevo io alla chanson a 18 anni a 19 anni quindi mi conosceva da tempo e quindi chiacchieravamo di quelle cose lì sul set ma tu lo sai come ho fatto il provino no 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 raccontalo sono curioso questo ti fa ridere allora la mia gente che è una pazza di Namitar da Vittoria Pistoia mi chiama e mi dice Stefano c'è un provino c'è una parte perfetta per te nel medico in famiglia cercano un milanese e gli dico Vittor non so se riconosci la mia regionalità abbastanza evidente ma milanese di che? no no vai tranquillo lo sai fa il milanese no faccio una pallida imitazione dei Berlusconi che imperversava no vabbè tu vai lì e fai il provino milanese però la cosa importante è che gli dici proprio anche al di fuori del provino continuo a parlare in milanese gli dici che stai proprio a Milano sei nato a Roma perché lo vedono dei documenti però parla milanese e io credimi sono andato lì pronto a essere mandato a quel paese c'è come il testo vabbè entro parlo due secondi mi mandano a quel paese devo abbattere a casa e quindi sono entrato dicendo ciao sono Stefano Fresi sono andato a Roma però vivo a Milano così però non sei male ti giuro così mi fanno fare il provino e mi prendono la cosa più bella è che vado il primo giorno di lavoro a Cinecittà e incontro il regista romanissimo che mi vede e mi fa ah va bello cominciamo oggi sei contento e io ho fatto sono contento sì lui si è bloccato e mi ha detto ma che sei di Roma sono di Roma ma come mi hanno dato i milanesi al provino e ho detto che te devi sono di Roma ed è andato abbiamo fatto amicizia così su questo inganno poi mi ha aiutato Francesco Salvi che mi diceva no così sei bresciano così sei bergamasco cambia questo cambia quello e l'abbiamo portato così sei bergamasco è bellissimo però non sei male ti ripeto sei perfetto lo sai fare molto bene e invece ci puoi raccontare del tuo incontro con Gigi Proietti perché sono molto ah Gigi ero veramente piccolo e sempre per Augusto Fornari che ti ho nominato perché Augusto Fornari era uno degli allievi dell'ultimo laboratorio di Gigi quando fecero il saggio del laboratorio che era l'opera del mendicante di John Gay io andai a vederla c'era questo straordinario musicista che è Germano Mazzocchetti che stava al pianoforte aveva scritto i cori per i ragazzi e facevano questo spettacolo bellissimo era il loro saggio di fine anno e io andai amico di Augusto a vedere questo spettacolo meraviglioso per me sedicenne diciasettenne finito il laboratorio di Proietti i ragazzi del laboratorio hanno detto che ragazzi abbiamo uno spettacolo montato con la regia di Proietti e le musiche portiamolo in giro e siccome Mazzocchetti aveva altri mille impegni Augusto disse c'è un amico mio pianista ragazzo che in gamba che ci aiuta lui e io mi sono messo a fare il pianista con questi ragazzi qua quindi mi sono trovato a fare le prove con la regia di Gigi e c'era un ragazzino e stavo lì al pianoforte e mi vedevo ste 6, 7, 8 ore di prove con Gigi là davanti e da lì poi lui ci ha prodotto gli spettacoli a me col trio di Tony e Emanuela gli Favete Linguis con cui io tuttora lavoro è delizio ma ci siamo visti tante volte nella carriera quando ho fatto Cavalli di Battaglia ci ha voluto nella sua trasmissione ci ha fatto piacere andare a fare la vasca di Alex Britti alla nostra maniera un bel modo di conoscerlo una bella palestra vedere il suo spettacolo da dietro le quinte è stata una delle esperienze più formative della mia vita immaginavo ecco invece c'è un'esperienza che non è ancora fatto e che stai magari cercando un sogno nel cassetto magari un tipo di film hai fatto anche il musical però non lo so qualcosa che mi piacciono le cose belle mi piacerebbe fare in continuazione bei film lavorare con tanti registi che stimo tanto amerei lavorare con Paolo Girizzini mi piacerebbe tantissimo fare un film con Giuseppe Tornatore uno che mi piace da morire con il tipo di cinematografia mi piacerebbe lavorare con un cast internazionale su un film francese o statunitense o inglese ecco già Lens of Dreams è stata una produzione abbiamo girato in Bulgaria con un cast internazionale insomma è stato molto molto particolare sostanzialmente non c'è proprio una cosa che farei a parte dice beh vorrei fare Spider-Man però ormai sono fuori carcato per quanto mi possa impegnare uno Spider-Man magari adulto un what if dove ha moglie e figli sai dove si è uno Spider-Man dopo l'anonima polistica c'è un tracollo per la morte via Iron Man eh ma sai ora con i multiversi puoi fare quello che ti pare c'è uno Spider-Man di tutti i tipi è vero ora mi hai risposto trasversalmente a questa domanda che voglio farti però insomma magari approfondiamo molte persone molti attori anche che ho intervistato mi hanno detto che fare l'attore è un mestiere difficile perché è difficile fare amicizie vere perché ci sono invidie livori eccetera però a quanto pare a quanto mi racconti tutte le volte che vai su un set tutte le volte che reciti incontri amici colleghi con cui poi stringi dei rapporti bellissimi no? allora sì stringi dei rapporti bellissimi anche perché il tempo di un film è breve cioè un film dura 5, 6, 7 settimane 8 settimane sono due mesi no? però sono due mesi in cui tu condividi tantissimo cioè tu a scuola stai 5 ore insieme ai tuoi colleghi di scuola i tuoi compagni di scuola e quindi è un periodo abbastanza lungo ma è mezza giornata poi c'è tutto il resto della tua vita con gli altri i tuoi amici con la tua famiglia eccetera e soprattutto sei un allievo in una scuola che impara e condividi quel quarto d'ora di ricreazione la gita scolastica per esso stai zitto a sentire la lezione non è che invece sul film tu stai condividendo intimità emozioni ti stai baciando con gli attori ti stai insultando con gli attori ti stai odiando ti stai sparando addosso cioè stai recitando una vita profondamente intensa e quindi sono 4 settimane ma valgono per 5 anni cioè è proprio un conoscersi profondamente conoscere i propri lati profondamente quindi nascono delle amicizie che possono essere profonde possono anche ci si può stare sul cavolo e si fa soltanto i professionisti si dicono le proprie battute al meglio delle proprie possibilità e si porta a casa il film però per esempio ti faccio il caso di Noella Giulia ad esempio di Noella Giulia l'ultimo messaggio della chat di Noella Giulia di ieri mattina continuate a sentirmi assolutamente sono nate amicizie fondamentali amicizia forte fra me e Edoardo Leo è nata su Smetto Quando Voglio ma si è consolidata davvero su Noella Giulia che è un film in cui siamo stati veramente culo a culo 24 ore al giorno tutti nello stesso albergo attori e troupe a fare un film praticamente quasi in ordine cronologico quindi questa cosa ci ha unito tantissimo a me Edoardo Claudio Luca Argentero Simone Spada che era la giudoregia si è creato un gruppo fortissimo che tuttora ogni atto si scrive che famo cenetta andiamo bellissimo così bello che magari ognuno porta a tavola le proprie esperienze si parla di lavoro è molto figo secondo me è bello meno male meno male e invece sempre ritornando al discorso cinema statunitense e cinema italiano ti hai detto una cosa saggia prima c'è che esiste tanta immondizia anche in America però c'è un po' di snobismo nei confronti del film italiano alla base come si diceva prima ma perché secondo te subiamo così tanto così tanta fascinazione dal cinema americano nonostante in realtà di rivoluzioni ultimamente nel cinema statunitense non è che se ne vedano poi così tante a parte che nessuno è profeta in patria il problema qual è? il problema è che c'è questa percezione dell'enormità dell'America in confronto alla piccolezza dell'Italia perché è chiaro che quello è un mercato internazionale tu fai Spider-Man Spider-Man lo vendi a Taiwan all'Europa alla Cina all'India all'Australia e va bene oltre i confini un medico in famiglia è una storia italiana noi facciamo uno spettacolo tipo aggiungi un posto a tavola storia in cui un prete si innamora di una ragazza nei paesi protestanti che cacchio gliene frega perché che problema c'è ti rispondono quindi è chiaro che se fai una cosa più piccola regionale legata a te difficilmente uscirai da lì questo secondo me negli anni ha fatto sì che ci sia una percezione come di qualcosa di meno forte in Italia rispetto a quello che è l'America che poi vedi questi incassano 100 milioni ma incassano 100 milioni con quel tipo di blockbuster ma poi magari non producono storie che invece ti stendono per la scrittura no? ah sì e quindi secondo me è semplicemente un preconcetto ed è un'esterofilia che in Italia c'è sempre ti faccio un esempio di Tornatore cioè Tornatore ha fatto un film che è il nuovo cinema paradiso che è il capolavoro non è andato benissimo ci sono andati in pochi al cinema è andato in America è stato pluripremiato perché meritatamente è tornato in Italia hanno gridato al genio è esploso Tornatore ah beh film straordinario ma l'hai visto sei mesi fa te ne fregavano niente adesso siccome gli americani hanno detto è straordinario anche un po' con la grande bellezza è successa questa cosa è un pochetto mi ricordo capito esatto tutti si ammazzavano per andarlo a vedere quando prima che palle dura tre ore è un po' così sì che poi è una missione di colpa perché tu dici a me non mi convince ha convinto gli americani beh allora forse allora forse sono scemo io capito ma forse non c'è capito niente che poi gli americani ma anche il resto d'Europa è molto affascinata ancora dall'Italia da queste storie locali fanno presa secondo me su un pubblico che vede all'Italia come secondo me un paese esotico quasi cioè con abitudini diverse dalle loro quindi secondo me possiamo funzionare ma io sono convinto di sì ma poi il cinema che racconta un paese è il cinema che va fatto quindi è chiaro che l'America ama l'Italia che si racconta attraverso il cinema anche perché è un modo più profondo per conoscerla non soltanto dal punto di vista del turismo dello spaghetto e del mandolino ma dal punto di vista proprio di come funziona la società qua infatti il mio cinema americano preferito è quello degli anni 70 della nuova Hollywood dove si raccontava una certa brutalità dell'America e con fare secondo me molto realistico molto appunto grezzo sì ma che raccontava la verità che c'era tra quelle strade in New York magari invece che la solita storia la d'amore con New York tutta piena di lucette a Natale la perfezione le coppiette perfette insomma quel cinema lì è veramente eccezionale come il nostro Neuralista per esempio vabbè ma stiamo divagando secondo me ecco invece adesso si è al cinema con Tutti a Bordo di Luca Minieri ecco io vorrei sapere un po' di questa tua ultima fatica di questa tua ultima esperienza anche perché hai ritrovato in realtà Giulia Michelini e hai condiviso il set con Giovannone Giovanni Storti di Aldo Giovanni Giaco ho ritrovato anche Carlo Bucci Rosso con cui avevo già lavorato con noi Giulia vabbè con Giulia è sempre un piacere lavorare Giulia è un'attrice estremitosa è bravissima collega è compagna di viaggio eccezionale al di fuori del set è amabilissima quindi insomma condividere con lei un film è sempre un bel viaggio Giovanni Storti è nato un amore folle mi sono innamorato proprio del suo lato umano è straordinario attore bravissimo sono sempre stato suo fan fan del trio mi sono divertito tantissimo Aldo Giovanni e Giacomo continuo a divertirmi e non me ne vogliano Aldo e Giacomo sempre Giovanni per me è sempre stato sono d'accordo con te quindi lavorarci con lui è stato veramente divertente poi ho scoperto questo suo lato umano condividiamo l'amore per l'ecologia per la natura abbiamo parlato di orti di piante hai visto su Instagram è impazzito che mi hai detto quella roba penso che c'è mio papà in Sardegna che sta facendo delle cose in Sardegna l'ho chiamato ho detto papà portami un po' di semi un po' di piante tipiche della gallura che gli regalo a Giovanni le piante impazzirebbe si si impazzirà ma io glielo le porto glielo le porto davvero mi sono divertito molto in questo film perché comunque è una commedia per ragazzi girata con dei bambini molto bravi tra l'altro molto divertente è un railroad movie praticamente perché si svolge tutto su un treno ed è un grande inseguimento a un treno sul treno ci sono dei ragazzi che se la devono cavare sfuggendo alle angherie del capotreno che è Carlo Bucci Rosso e io e Giovanni invece Giovanni Storti cerchiamo di inseguire questo treno per recuperare questi bambini che ci siamo persi è divertente i ragazzi si divertono molto al cinema per me è stato molto molto divertente farlo Stefano io ti ringrazio sei stato splendido velocissimo hai raccontato un sacco di aneddoti grazie veramente sei stato eccezionale mi sono rilassato molto in questa intervista perché è sempre bello parlare con un bravo attore che cerca di fare del bel cinema o che comunque racconta il bel cinema in una maniera così intima e credo che abbia apprezzato anche il mio pubblico quindi io ti ringrazio e ti abbraccio ringrazio te e il tuo pubblico ma ci mancherebbe altro in bocca al lupo per tutto e ora voglio vederti nel musical voglio vederti nel musical più che altro perché mi ha incuriosito un botto ti dico una cosa mi hanno tolto la barba mi hanno dipinto i capelli di rosso e mi hanno vestito con un velluto verde sembro un avocado nel film ma perché è così bello vabbè me lo gusterò ma a te mi piace cambiare grazie Stefano grazie a cuore ti abbraccio ciao 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 ciao